Dove andranno, Presidente, lo dico tramite lei al Governo, queste persone? Questi centomila dove andranno? Avete una risposta da darci? Perché l'unico vero provvedimento che c'è qui è questo. Avete creato delle persone irregolari, delle persone invisibili, senza volto. State creando un esercito di persone che non avranno più nome né volto. Oggi sono nei comuni, seguiti dai comuni. Domani non lo saranno più, capite? Non lo saranno più, quindi vagheranno per le nostre città. Forse è bene che vi ricordiate che così voi avete generato ancora persone che continueranno a esistere. Ai vostri occhi sono invisibili, senza nome e senza volto, ma noi li ricorderemo. E per questo voteremo conto. E per questo voteremo, consigliate, grazie per voi.